Innanzitutto buongiorno, e anche grazie per il vostro calorosissimo benvenuto che apprezzo veramente tanto. La voce è un po' rauca, alquanto rauca perché mi sono preso un raffreddore britannico, per cui se non vi dispiace non sarò proprio troppo molto intimo con voi. Come detto questa non è stata una buona settimana. Le persone erano molto confuse, la gente era molto confusa. And the leader of the left, Jeremy Corbyn, was made very unpopular by propaganda that was more intense than anything we've ever seen before. E io sono andato veramente, ho fatto tipo campagna porta a porta e ho parlato con delle persone, questo è quello che le persone mi hanno detto, mi hanno raccontato come appunto eco di quello che avevano sentito. E la cosa che ha peggiorato il tutto è che poi queste bugie sono state ulteriormente propagate e perpetuate dai componenti del Partito Social Democratico di destra. E questo è chiaro, lo hanno fatto, lo fanno per poter distruggere il programma radicale che la sinistra ha cercato di portare avanti. E oggi Tony Blair terrà un discorso dove ancora una volta attaccherà il programma radicale della sinistra. E non dimenticatevi che Tony Blair è stato colui che ha aumentato la privatizzazione delle aziende pubbliche, quindi le ha messe nelle mani delle grandi multinazionali, delle grandi aziende private. E probabilmente è responsabile di almeno un milione di vittime della guerra in Iraq insieme al suo amico George Bush, quindi da lui lezioni non ne prendiamo. Ok, un'ultima cosa prima di passare che già me lo diano. Allora, volevo chiedere quanto un film come questo possa effettivamente incidere nel dibattito politico. In sostanza, il ruolo degli intellettuali di cui spesso si discute, la presenza di intellettuali di cui spesso ci si lamenta. E qui in Inghilterra è ancora una cosa seria oppure no? Perché pure qua abbiamo qualche problema. Diciamo qua Ken Loce avrebbe definito un radicashic, bonista. Non so, bonista, come si traduta. Anche qui cerco parole di speranza. Penso che un piccolo effetto si si possa avere. Il discorso pubblico è fatto di molte voci. E la nostra è una piccola voce, una vocina in un grande coro di tante altre voci. Ma quello che abbiamo assistito nel nostro paese negli ultimi anni, che ha raggiunto l'apice poi nelle ultime settimane, è stata una propaganda che ha praticamente travolto, coperto, le varie voci diverse. Dovremmo ricordarci la vecchia battuta. Che il cabaret politico a Berlino degli anni trenta potesse o abbia prevenuto l'arrivo di Hitler. Purtroppo però tristemente non ha impedito l'ascesa di Hitler a potere. E quindi dovremmo rimanere umili circa quali sono le possibilità di quello che possiamo fare, che il cinema può fare. Allora volevo chiedere, in merito proprio all'happy end e al discorso di un finale consolatorio, lei è l'Aido, il cantore per eccellenza della working class del mondo, ma soprattutto anglosassimo. ha girato un bellissimo film, che si ha Family Life, che ha ispirato tanti film americani. Qualcuno conosce un uomo per il tema della malattia mentale e Ordinary People di Robert Redford per il tema della famiglia borghese. Sì, innanzitutto grazie. Sì, innanzitutto grazie. Sì, spero che comunichi la sensazione, l'avversizione che è un qualcosa di intollerabile. che questo è intollerabile e che è un qualcosa che non possiamo sopportare. perché questa è la richiesta, l'esigenza da parte delle grandi aziende, delle grandi imprese, che le cose debbano essere così. e peraltro il manager di questo deposito lo spiega nel corso del film che c'è concorrenza tra questo deposito e tutti gli altri. e alla fine il lavoro verrà dato a quello che è più veloce, più economico e anche più affidabile. e il costo di tutto questo è una classe operaia che viene sfruttata oltre ogni limite. e sappiamo nel film che il capo di Amazon è l'uomo più ricco al mondo. e questa diseguaglianza così marcata, così grossolana, così evidente, non è un qualcosa che si può sopportare. non è soltanto la diseguaglianza ma anche la distruzione del pianeta. perché ciascuno di quei furgoni non fa altro che bruciare combustibili fossili. per cui è veramente allucinante, ridicola l'idea che ogni pacchetto che viene consegnato viene trasportato da un furgone che brucia benzina. e questo ovviamente colpirà i figli dei borghesi tanto quanto colpisce i figli dei lavoratori, degli operai. Sì, credo che i sindacati debbano riscoprire quelli che erano i loro metodi originari. perché quando sono stati creati i sindacati la gente viveva in queste condizioni, in questa situazione. i muratori i muratori i muratori i muratori o persone che lavoravano nel mondo dell'edilizia andavano individualmente, singolarmente, presso un cantiere e chiedevano se potevano essere assunti. e per esempio i portuali si riunivano intorno alla banchina e agitando il loro cartellino cercavano di farsi assumere, questo era un qualcosa che veniva l'uno contro l'altro. e i sindacati non hanno bisogno di grossi uffici costosi, hanno bisogno di persone che sono in grado di organizzare i lavoratori, che sono impegnati e sono attivi e che scendono tra la gente e li organizzano. non è andata proprio così, non ha funzionato proprio così. abbiamo fatto il casting del film, ovviamente chiede persone che credi in cui tu credi, persone che ti risultano, che ti sono credibili, persone che hanno capito, proprio al livello del mondo. a livello profondo, a livello proprio di budella, di pancia, hanno capito quello che questa situazione era, cosa significava. quindi Chris, che interpreta Ricky, ha cominciato a fare l'attore, ma la grafica è stata un'attore, ma la grafica è stata un'attore, ma la grafica è stata un'attore.